Si terrà sabato 21 maggio la Notte Europea dei Musei. L'iniziativa, giunta alla dodicesima edizione, è posta sotto il patrocino del Consiglio d'Europa, dell'UNESCO e dell'ICOM al fine di valorizzare l'identità culturale europea. E per l'occasione è stata prevista un'apertura straordinaria di tre ore, oltre il consueto orario, in cui sarà possibile visitare il Parco archeologico di Siponto. L'associazione No Profit Missione Africa presenta l'iniziativa musicale che si terrà sabato 21 maggio a partire dalle ore 20 e 30 presso il Teatro Cicolella a Foggia. Un concerto il cui ricavato andrà interamente devoluto per finanziare dei progetti di sostegno a distanza, per sostenere circa 300 bambini a scuola e attraverso il sostentamento di due strutture sanitarie con l'apporto economico di personale sanitario, medici e ostetriche. Sul palco dello storico cinema della città di Foggia si esibirà la Goliardic Music Band. Il 21 e il 22 maggio torna per la seconda volta in Capitanata uno dei più grandi violinisti a livello internazionale, Jeremy Cohen. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, stavolta il Teatro Umberto Giordano di Foggia, che si prepara a spalancare le porte al grande musicista americano per un doppio appuntamento, masterclass e concerto. Il cacciatore di incontri dà appuntamento a sabato 21 maggio alle 11.30 per parlare di sport, con l'obiettivo di dare spazio soprattutto alle discipline meno note ma molto praticate, sia dei normodotati che dei diversamente abili. A parlare saranno Antonio Anzivino, Mario Ciavarella, Pino Tauro, Renato Martino, Giuseppe Dutti e a dialogare con gli ospiti sarà il giornalista Mimmo Ciccolella.